Ma lo reddus al pomodoro, i classici gli occhietti sardi. Partiamo subito con la cipolla tritata, i gambi di prezzemolo, olio extravergine d'oliva sardo e lasciamo andare. Lasciamo che prenda un pochino di calore il nostro tegame. Subito dopo, la salsiccia, tolta la pelle, mettiamo all'interno del tegame. La sbricioliamo bene bene. Voi avrete già pronta una cosa importante. La salsa di pomodoro, scottata in acqua bollente, passato alla pasta verdure e questo è il risultato. Continuiamo con il nostro lavoro. Una volta che la salsiccia si è sbriciolata, incominciamo a mettere la salsa. Quella che basta è la giusta proporzione a secondo la salsiccia che avete messo all'interno. Vedete che il colore della passata non è il classico colore della passata che compriamo nel negozio. È un colore più vivo, guardate, più acceso. Non è cotto, non ha subito nessuna cottura. Aggiungiamo subito lo zafferano. Io preferisco sempre fare un'operazione. Metto un pochino di acqua, l'acqua che servirà poi per cuocere la pasta, e la metto qui dentro. Così sciogliamo bene lo zafferano. Mescoliamo bene la salsa. Lascio i gambiti del basilico fino a quando non sarà cotta la nostra salsa. E a questo punto verso lo zafferano. Prendo un pochino di acqua ancora, sciacquo bene, pulisco. Guardate il colore. La carne ha preso un colore sull'arancione, vedete? Anche la salsa ha cambiato colore. Guardate, quando faccio così, il giallo dello zafferano. Aggiungo anche un po' di basilico in foglie. Le spezzo con le mani. Mescolo il tutto. Mettiamo un pochino di sale e pepe. Io metto sempre il sale grosso all'interno di ingredienti liquidi e caldi. Così si può sciogliere il sale grosso. Se sono freddi metto sempre sale fino. Pepe. Pepe. E lasciamo cuocere questa salsa per circa un'ora. Però, noi ci rivediamo tra 45 minuti. Poi vi dico perché. Sono passati i nostri 45 minuti. tolgo i gambi del basilico. Cerchiamo. Sale. Prendiamo i nostri maloreddus. Che vuol dire in sardo vitellini. Questa pasta richiede dai 10 ai 15 minuti di cottura. Abbiamo messo qui una padella per saltare i nostri maloreddus. Prendiamo la salsa. Oramai pronta. Prendiamo il maloreddus. Così può bastare. E incominciamo a saltare. E' un po' troppo asciutto il sugo. Quindi aggiungerò un pochino di acqua di cottura. Perfetto. Eccoci qui. Il colore è bellissimo. Cerchiamo di dare un pochino di altezza a questo piatto. Prendiamo il basilico. Un po' di fresco. Diamo. Pegorino sardo. Come se nevicasse. Olio. Olio. Buon appetito. Buon appetito.